Dove siamo rimasti? L'ultima volta che ci eravamo visti c'erano appena state le elezioni europee e Renzi aveva stracciato non solo Grillo ma anche gli scettici del suo partito, 40,8%, un voto che metteva insieme il vecchio elettorato comunista e i moderati in fuga da Monti e Berlusconi. Ma cos'è successo in questi quattro mesi? Renzi ha usato bene o male quel capitale di consenso? Scommetto che il mio amico Davide Giacalone è pessimista, nonostante abbia scritto un libro per Rubettino, un libro ottimista sull'Italia che non a caso si intitola Senza Paura. Una cosa però è vincere le elezioni, cioè avere questa partita di fronte alla Repubblica, altra cosa è il governare, si ha a che fare con forze e con problemi diversi e lì qualche difficoltà in più l'ha incontrata e l'ha incontra. Beh, pensavo peggio, mettiamola così. Primo, Renzi è rimasto nel bene e nel male l'unico vero protagonista della politica italiana. Secondo, ha avuto, ha ed è destinato a mantenere un altissimo consenso. Piace o non piace, è così. Terzo, sul piano politico, per furbizia tattica e capacità comunicativa, merita un voto molto alto. Quarto, come Presidente del Consiglio, è sotto la sufficienza. Il risultato politico più brillante che ho tenuto è di aver sottratto il PD allo storico estremismo della sinistra. Renzi certamente chiude, ha già chiuso, possiamo dirlo dal passato, la storia del fu partito comunista italiano, poi i cambi di nome, i vari partiti, le reincarnazioni, le alleanze con la sinistra democratica, questa storia è chiusa, è finita. Renzi è una cosa che sta dopo. Beh, diciamo che il PD di Renzi è la DC di un tempo, interclassista, inclusiva, onicomprensiva, con due differenze però. La DC sapeva maneggiare il potere e, conoscendo i propri limiti, voleva alleati che avessero cultura di governo. In mancanza dell'alleanza con un Lamalfa, lui, Renzi, che non è De Gasperi, si allea con Berlusconi facendo il cosiddetto patto di Nazareno. Non è proprio la stessa cosa. È evidente che l'accordo, il momento di nascita del governo Renzi è l'accordo del Nazareno. A meno che la mancata elezione dei giudici della Corte Costituzionale, scandalosa peraltro, non rovini tutto. Non credo sia messo in crisi dalla mancata elezione fin qui dei due giudici costituzionali, perché tutto sommato ho l'impressione che il candidato della sinistra, Luciano Violante, non sia il candidato di Renzi, mentre il centrodestra, in particolare Forza Italia, sono stati abilissimi nel cambiare tre candidati e quindi annettersi completamente la colpa di queste mancate elezioni. Però se il buongiorno si vede dal mattino, quando sarà il momento di eleggere il successore di Napolitano, saranno guai. Questa legislatura può trovarsi a eleggere un nuovo Presidente della Repubblica solo se l'attuale dà le dimissioni. Lei aveva preannunciato fin dall'inizio e io ho proprio la sensazione che tutto ruoti intorno a quel cambio. Non sentite odore di Draghi voi? Il suo mandato è ben lungi dello scadere e in quanto alle dimissioni, ove mai ci fossero, sarebbe un atto totalmente personale. Trovo abbastanza fastidiosa la riflessione sul post-elezione di Napolitano come se già fosse sulla via dell'uscita. Non è così. Se il Presidente della Repubblica non si dimette, Renzi in primavera ci chiama a votare. Vuole tradurre il suo consenso in seggi. E devo dire che se gli ex PC vanno a casa, a me non mi dispiace. La durata di questo governo e di questa legislatura è data essenzialmente dalla riuscita delle sfide sul terreno economico. E' anche per questo che considero le elezioni anticipate altamente probabili. Tra recessione che torna e deflazione che avanza, la sfida finora è persa e non sarà questa manovra finanziaria a cambiare il corso delle cose purtroppo. La scommessa su cui si basa, faccio finalmente ripartire il PIL, Renzi è destinato a perderla. Temo che le spinte espansive presenti nella legge siano troppo poche, troppo deboli per dare un effetto di quel tipo. Se questo non dovesse capitare allora scattano gli effetti negativi. C'è un deficit eccessivo. I mercati con il riallargamento degli spread vanno spiegando in maniera chiarissima che i deficit rischiano di costare più di quel che valgono in termini di interesse sul debito che generano e soprattutto a quel punto scatterebbero le norme di salvaguardia che comportano un aumento della pressione fiscale. Quindi a fare sgambetto a Renzi potrebbero essere i mercati così come lo spread lo fece a Berlusconi. Oggi non è possibile che si verifichi la stessa cosa, nel senso che il problema non è più quello del governo, non sarebbe più quello del governo italiano, ma diventerebbe un'aggressione contro l'Europa nel suo insieme e sarebbe un'aggressione molto più devastante di quella che abbiamo conosciuto. Sarà, ma io sento un rumor di zoccoli. Mmm, questa è la crisi finanziaria che torna. Mmm, questa è la troica che si avvicina. Un momento, fatemi sentire un po' cosa dice Giovanni Orsina, uno dei pochi analisti di cui mi fido. Professore, Renzi, si schianta o la sfanga? E noi? In termini di politica interna, la sfanga perché c'è solo lui. Sui mercati finanziari rischia fortemente di schiantarsi. Grazie. 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 Grazie.